Alessandro D'Antonis, quest'anno il Natale Terramano si allarga, va fuori dal centro storico, approda anche del quartiere della stazione. Note di gusto, Christmas edizione 2019. Sì, abbiamo costruito questo evento, sarà un evento con una grossa portata perché avremo attrazioni attrattive nell'arco di due giorni, c'è dal sabato pomeriggio quando alle 16.30 arriverà Babbo Natale in stazione, quindi sul trenino, sul treno. Stiamo parlando di 14 e 15 diciamo. Sì, assolutamente. Quindi Babbo Natale arriverà qui, gli offriremo una merenda grazie al ristorante Capoligna e poi inizieranno tutta questa serie di eventi. Abbiamo inglobato anche curiosando all'interno della nostra manifestazione, quindi ci sarà una serie di mercati, di mercatini, fra creativi, antiquariato e poi abbiamo una serie di attrattive musicali importanti. Ho voglia di citare la Mob Better Band che passerà per le nostre vie, quindi sarà, insomma, proprio nel rispetto dell'evento diffuso, itinerante, quindi dalle 17 fino alle 20. Abbiamo delle aree riscaldate per lo street food e tante, tante altre iniziative. Farei fatica a raccontartele tutte. Ci sarà anche, insomma, il villaggio di Babbo Natale, come detto, con intrattenimento e spettacoli. Sì, abbiamo il villaggio di Babbo Natale e questa cosa magari ve la racconterà il vicepresidente perché è stata, insomma, una sua grande volontà. Abbiamo una cosa molto importante, il ringraziamento ai residenti che ci hanno aiutato a realizzare luminarie per tutte le vie. Forse di questo non si ha ricordo in questo quartiere, io perlomeno non ne ho. C'è un impegno proprio dell'associazione commerciante di Teremo Stazione che tra l'altro è nata da poco. Sì, è nata da poco, continuiamo ad avere adesioni, quindi nel frattempo sta anche crescendo. Un ringraziamento va anche all'assessore Valdo di Buonaventura perché siamo riusciti a farci piantumare un giovane abete in una zona verde su Via Pannella. È diventato, diventerà il nostro simbolo, nel senso che... L'avete adottato? L'abbiamo adottato, esattamente. Speriamo che cresca bene e forte. Fabio Stortini, vicepresidente dell'associazione commerciante di Teremo Stazione, ci parla del villaggio di Babbo Natale. Sì, buongiorno. Abbiamo praticamente, arriverà a Babbo Natale, a Teremo Stazione, alle 16.30 del 14.00. Il ristorante Capolini offrirà la merenda a tutti i bambini che lo aspetteranno qui in stazione. Dopo all'interno dell'associazione, del quartiere, ci sarà il villaggio di Babbo Natale, dove ci sarà Babbo Natale che darà ogni letterina al bambino e il pensierino. In più ci saranno dei confiabili per i bambini, ci sarà il mangiafuoco e altre attrattive sempre per i bambini. In più, volevo dire che abbiamo regalato, io e il presidente, un abete alla parrocchia, proprio lì davanti alla chiesa. L'abbiamo fatto mettere il sacro cuore. Sì, proprio il sacro cuore. Ieri abbiamo fatto questo regalo alla parrocchia.